Se oggi in Italia ascoltiamo ancora la musica dei grandi cantautori di una certa area, quella degli anni 70, lo dobbiamo anche a quest'uomo, un uomo particolare, lui si chiama Harold Bradley, ha fatto il giocatore di football americano, ha vinto addirittura il Super Bowl, poi è arrivato in Italia, arriva a Roma e fonda un locale, questo locale inizialmente un locale di jazz, si chiama Folk Studio e poi si dedica ai cantautori e da lì partono tutti i grandi cantautori di quella grande area romana, mi vengono in mente De Gregorio e Venditti subito e mi viene in mente il grande Mimmo Locascioli col quale parleremo per raccontare quel periodo, Harold Bradley e il Folk Studio.